La stazione Medio Etruria è una boiata pazzesca e in Umbria possono tranquillamente viaggiare freccia rossa o bianca o in ogni caso i treni ad alta velocità. Il Movimento Politico Energie per l'Italia ne ha convinto e questa mattina ha illustrato nello studio del suo rappresentante per l'Umbria Walter Biscotti i criteri di fattibilità e il valore che TAV avrebbe per la nostra regione. Proponiamo ha detto Biscotti ai nostri sindaci Umbri di richiedere a Ferrovie dello Stato la disponibilità per un giorno data da stabilire in settembre 2017 un collegamento charter per Milano facendo partire freccia rossa perché è il più veloce da Roma attraversando appunto le varie città dell'Umbria Terni, Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia e riempiendolo con 450 passeggeri paganti andate e ritorno a dimostrazione della fattibilità e dei tempi della soluzione. Con Walter Biscotti in conferenza stampa anche Andrea Calabro e il colonnello Alessio Trecchiodi. Il freccia rossa in Umbria è un problema di cui oggi se ne sta molto dibattendo, tutti ne parlano però di fatti ne vediamo pochi. Siccome noi riteniamo che è una cosa molto fattibile, proponiamo per settembre un treno dimostrativo o frecciarossa charter che partirà da Roma, si fermerà nelle principali città dell'Umbria per arrivare fino a Milano. Questo per dimostrare che si può arrivare a Milano in tempi brevissimi. L'Umbria ha bisogno di questo perché dopo il terremoto bisogna rivitalizzare sia il turismo e sia tutto il nostro patrimonio culturale che è la vera risorsa dell'Umbria e quindi questo treno dimostrativo deve servire per far dimostrare che si può fare. Quindi ci saranno attivate tutte le procedure, tutto questo grazie al responsabile dei trasporti per l'Umbria di Energie per l'Italia, il dottor Andrea Calabro, che si occuperà della realizzazione di questa iniziativa e della sua fattibilità.